Ciao, sono Matteo dello Stilo e Bravo Club. Stamattina ci siamo trovati verso le 9 e mezza qui all'autodromo di Monza per una giornata di pista e di buon cibo nostrano. Siamo arrivati in 30 macchine fra Stilo e Bravo e grazie al gruppo dei piloti Cedas Fiat abbiamo avuto anche l'occasione di provare dei giri in pista con dei piloti veri e propri, molto emozionanti. Un saluto a tutti dallo Stilo e Bravo Club. Grazie a tutti.